Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha lavoro per recuperare l'imposta di soggiorno non versata o versata solo in maniera parziale da parte delle strutture ricettive, il cui periodo di applicazione nel Comune Costiero va dal 1 aprile 2022 al 31 ottobre 2022 come da delibera di consiglio, e deve essere versata entro il 16 del mese successivo per non andare incontro a sanzioni. Questo perché secondo il Comune sono consistenti le somme ancora non versate nelle casse dell'ente. Sì, abbiamo fatto un'analisi fra le presenze dichiarate e l'incasso dall'imposta di soggiorno, ci sono delle incongruenze abbastanza importanti, e quindi stiamo facendo in modo, sollecitando gli operatori che ancora non l'hanno fatto, a versarla. In ausilio dell'ente, il Comune a stretto giro stipulerà un protocollo di intesa con la Guardia di Finanza, anche al fine di effettuare gli accertamenti delle presenze turistiche all'interno delle strutture ricettive sul territorio comunale. Non è specifico sull'imposta di soggiorno, in verità è un protocollo di intesa fra il Comune e la Guardia di Finanza, che si è installata nella nuova caserma nella zona sud a Fonte dell'Olmo, a cui abbiamo chiesto un supporto, visto che siamo veramente carenti di risorse. Quello che da sempre è mancata nell'amministrazione è la possibilità del controllo, perché le norme ci sono, i controlli sono difficili da fare perché c'è mancanza di risorse. Però possiamo dire che non è una caccia alle streghe? Ma assolutamente no, ci sono tantissimi operatori virtuosi, a cui va il mio ringraziamento, perché ce ne sono puntualissimi, quindi nessuna persecuzione, chiedo agli operatori di non allarmarsi, immagino che magari siano stati presi da tante incombenze estive, perché il lavoro estivo è molto frenetico, però chiediamo a tutti di regolarizzare quanto prima, perché con l'imposta di soggiorno abbiamo finanziato un'estate, come ne hanno detto tutti, frizzante, per cui riteniamo che sia giusto poi pagare chi ha lavorato per renderla frizzante.